Ciao a tutti ragazzi, bentornati come sempre qui sul canale di The Reviewver, il vostro ragno recensore. Sigla! Bene ragazzi, siamo qui di nuovo con il ragno recensore per un'altra nuovissima puntata sulla serie One Shot e Numeri 1. Poche pagine quindi per guardare, giudicare e correre in fumetteria o in edicola a comprare il volume. Il ragno recensore vi augura quindi una buona visione a tutti. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!